Musica Musica Scusate di cinquantacinque Adesso in pista né il cuguriano E tanti altri alti Per Ciesica Allora, a volte i primi, a me, grande spettacolo, grande ciò, grande ciò, grande ciò, quinto classificato, quarto classificato, e challenge, dal vostro Giacomo Ciapeno Argentiero, un grande saluto e vi aspettiamo a raggiungare.